La votazione finale assegnata a questo prodotto di De Longhi è di 8.8 voti su 10. Questo è il migliore di questa selezione. Questi sono i suoi punti di forza. Livello del rumore, stile, controllo remoto, ottimo rapporto qualità prezzo, efficienza energetica. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Klarstein ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.2 su 10. Risulta al momento essere il più venduto online. Le sue qualità sono. Stile, livello del rumore, comodo, calore, ottimo rapporto qualità prezzo, controllo remoto. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. iGhostar, con questo articolo si è giudicato un voto finale di 8.6 su 10. È al momento il più votato con 1385 valutazioni per questa categoria. Le caratteristiche principali sono facile da montare, stile, comodo, ottimo rapporto qualità prezzo, controllo remoto, durabilità. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione di questo prodotto di Gridilux è di 7.8 voti su 10. Risulta essere il prodotto più regalato. I suoi pregi sono. Livello del rumore, stile, ottimo rapporto qualità prezzo, controllo remoto. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Cechotec ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8 su un totale di 10 punti. Risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo. Riteniamo questo prodotto un buon modello adatto alle esigenze di chi cerca qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo efficiente. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video.